ciao allora stasera io e jenny prepariamo i panini con l'hamburger ovviamente abbiamo comprato i panini senza i semini alla coppia aspetta vediamo che si apre senza rompere e distruggere tutto qua vabbè se l'ho distruttato lo stesso non fa niente quanti iniziamo con uno prepariamo prima i panini di salvatore quindi dammene un altro jenny allora questi buoni questi sono morbidi ma nei panini al burro questi sono piccolini cioè quelli senza i semini erano tutti così piccoli invece quelli con i semini erano grandi però non lo so non li mangio no vabbè allora questi sono piccoli però secondo me vanno più che bene allora cioè non lo so poi troppo grandi secondo me sono esagerati nel senso che a parte che gli hamburger che vendono sono abbastanza piccoli quindi esatto quindi non vanno neanche bene per quei panini enormi cioè devi farli poi tu ecco devi comprare la carne macinata e farli tu perché altrimenti sono troppo piccoli gli hamburger che vendono quindi non vanno neanche allora quale ti devo dare gli hamburger aspetta adesso vediamo comunque salvatore ha detto che vuole entrambi i panini con la maionese non vuole il ketchup ma a parte che neanche ce n'è più maionese cosa no pensavo che vi metto la maionese dall'altra parte infatti ho detto sta facendo il panino al contrario però poi no jenny ho una zanzara nell'occhio ma perché ogni volta che registriamo ci sono sempre zanzara in giro non lo so ma no no allora dipende un pochettamente con la come si chiama le piastrine ehm sì perché guarda no sono molto fastidiosa sì perché c'è mamma allora dammi una buce questo questo sì o quello quale vuoi poi tu questo qua gli diamo quello sì ok cioè sono tutti uguali però mettilo qui vai ok comunque lo so che l'hamburger di pollo è sempre un hamburger c'è di carne però è differente questo è l'hamburger di pollo e quello è di carne cioè non so no va bene scusami allora tu prendi il petto di pollo e prendi una pezza di carne alla fine è diverso sì sono differenti per questo io dico sempre così però lo so che entrambi alla fine sono c'è sempre carne ecco sì però dico se tu prendi il pollo e le geni poi mettiamo aspetta la pancetta queste dopo si le mettiamo dopo lo sai che cosa manca forse l'insalata però non abbiamo l'insalata abbiamo fatto il cappuccio oggi manca l'insalata però vabbè quindi non possiamo mettere il cappuccio poi se vuoi il cappuccio non lo so dimmelo no 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 però l'ho mangiato oggi a pranzo è buono sì l'abbiamo fatto l'insalata se lo vuole possiamo preparare un altro po lo vediamo dai dipende o lo mangiamo domani dammi le patatine prendi con la porchetta no non faccio prima metto direttamente tutto con le mani allora questo poi è il tuo e questo è il mio perché questo qua è più perfetto io guarda qui cade tutto cosa tu fai la montagna e come le devo sistemare guarda cazzo non si metti la di lato vedi qua così non fargli la montagna non va bene così non è che non riesce neanche a mangiarlo poverino non metti così tipo montagna io preparo panini perché sono troppo forte ok basta basta non ne mettiamo più tieni tanto se magari ne avanzano ne mangiamo così ecco da sole senza e perché sono tre questi aspetta adesso ti dico comunque i panini di salvatore sono pronti ecco qui è volata una patatina allora questi sono di salvatore non vuole stare nel panino geni guarda metti lì fermati eh no non sta quindi abbiamo finito con i panini di salvatore adesso facciamo quello di geni geni no questo è il mio ok no questo qua è il mio panino ho capito sto pulendo il coltello perché è più tu non vuoi nessuna salsa no se lo togli con la forchetta no no e poi mi sa di maionese geni lo sto pulendo tu devi tagliarli prima tutti guarda non ce n'è più ma comunque abbiamo sbagliato anche questa volta perché dovevamo fare una cosa dovevamo riscaldare i panini nella padella la parte interna quindi tu hai detto che non vuoi né maionese né ketchup vai mettilo non vuole niente non vuole niente è perfetto vedete poi metto un po di pancetta aspetta comunque mi sa che troppa questa pancetta vediamo dai se ne va non so se hai fatto tutta la confezione vabbè non ma erano fettine sottili geni ho capito però comunque puoi tanta tieni no crollato tutto oggi non vogliono stare aspetta faccio io basta sistema tu le patatine magge vai io l'ho detto sembra che stiamo facendo una piramide vai chiudi come mai ne puoi solo uno tu gen perché poi due non li mangerei vabbè io ne preparo due anche per me poi vediamo se allora lei prepara 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 poi non ce lo mangia dalla papà non ce lo vuole lui penso di sì che cosa pensi di si ti ho fatto due domande che li mangerò alla fine sono piccoli voglio vedere non sono che cos'è una sfida no non è una sfida però io faccio ketchup voglio spalmarlo io aspetta geni va aperto e allora vai faccio io qualcosa se no dobbiamo aprirlo perché è nuovo visto che l'abbiamo comprato stamattina quando abbiamo fatto la spesa piano geni non c'è quel cosino per tirare come non c'è impossibile io con le unghie non riesco giù figurati io ovviamente sì sto tirando qua la carta di sopra aspetta dammi dammi ce la fai niente ha bucato allora io sono la carta geni geni ma perché fanno queste cose così non lo so aspetta guarda che la facciamo con il coltello se no già non ho quella forchetta dammi che la tolgo allora è una cosa di principio fanno delle confezioni impossibili di aprire no è che noi abbiamo le unghie troppo lunghe qui no ma non dicendo cioè voi mi dovete spiegare come si apre questo coso di ketchup senza la linguetta in che senso ah non lo so già di solito la mettono scusa mettilo qui guarda non lo so sembra proprio quel ketchup che tipo di danno quando vai al ristorante compri le patatine la comunque quando esci e compri le patatine fuori non lo so perché per me il ketchup che compri a casa e il ketchup che hai che compri fuori è diverso io infatti qua a casa lo mangio poche volte invece fuori con le patatine ogni tanto lo mangio vabbè vediamo adesso poi spalmo io va bene sì sì no non ti metti pure la macchina è solo questo no solo ketchup a me non piace proprio a me non piacciono in generale proprio tutte le salte diversa la cosa ma anche quelle del mac non le mangio infatti ogni volta che prendiamo il mac lei vuole tolta tutte le salte panino senza salsa ma secondo me non dovrebbe togliere la salsa perché poi troppo asciutto il panino non è vero non è asciutto allora è buono però la salsa non mi piace capisco magari il ketchup che è con la salsa quindi no però sposta questo sennò non vedono cosa stiamo facendo e che cosa stiamo spalmando interessante si molto sembrano quei panini ai stai mettono alla macchina la come norme e si non fa niente mettilo qui c'è vedete questo è sproporzionato è questo è leggermente troppo grande rispetto al panino ma non fa niente vai ok adesso metto la pancetta ti metto io le patatine le metti tu fai come vuoi per me non lo so aspetta un attimo ora ti dico ma è giusta la pancetta stavo scherzando avevo detto che erano i tuoi salvatore io 15 5 alla fine si invece era giusta ma già metti le due le patate e prendi le passi sono qui e messe la guarda devi fare con calma e qui non cade perché c'è l'hamburger che è enorme quindi non cade piano ok basta avvicina l'altro cioè metti questo va vabbè fai la stessa cosa basta che l'abbicini vai devi scegliere due panini abbastanza le devi scegliere le patatine abbastanza ripieni e poggiarle con delicatezza che poi no io l'altra volta dovevo fare un esperimento per scienze e dovevo mettere tipo una graffetta e farla stare in equilibrio in equilibrio tipo nel bicchiere d'acqua poi un giorno forse ve lo farò vedere ed è una cosa impossibile ve lo giuro perché allora tipo la mettevo e poi tipo bucavo con l'angolo del dell'unghia quindi non stava ci ho provato in tutto sei volte poi mi è riuscita alla settima volta quindi perfetto direi non lo so centro perché tipo non riuscivo a posizionare le patatine con l'equilibrio ecco delle patatine della graffetta queste cose qua comunque di raccontarvi non c'entrava niente però volevo dirlo dall'esperimento perché era una cosa carina vabbè poi lo puoi far vedere il video tanto pensi di sì sì il professore l'ha già visto e poi non ci dice niente no no era una cosa che allora lui ci ha detto di fare un video una foto qualsiasi cosa basta che comunque vedeva questa cosa rappresentata e io ho fatto il video perché non lo so mi sembrava più comunque appropriato hai finito con i panini sì abbiamo finito con i panini in realtà è finita anche la maionese stavo guardando questo vabbè dettagli vabbè meno male da che sono riuscita a metterla nel panino di salvatore almeno lui è contento e mangia i panini con la maionese e non mangia dei panini completamente asciutti come fa geni sono buoni ditemi che timono salse ma dai timono salse scrivetelo ma come fa non mangia non è asciutto non è asciutto c'è il sapore c'è il sapore vabbè comunque l'unica cosa che manca questi panini è l'insalata altrimenti erano perfetti esatto vabbè diventava ulteriormente alto e mangiamo senza insalata cosa possiamo farci niente potevamo comprarlo stamattina vabbè ma con tante cose che abbiamo fatto poi proprio l'insalata pensavo poi di bibite non lo so mi sembra che oggi era rimasta la fanta però io non credo di bere la mamma no non è rimasta non è rimasta niente e vabbè noi abbiamo le brasilene piccoline quindi possiamo bere le brasilene l'avete visto oggi che l'abbiamo comprate a proposito non per dire ma oggi sembra una giornata infinita per il fatto dell'ora vabbè dettagli anche questi no ha ragione geni non passa più con l'ora nuova non so se a voi è passato oggi se io controllavo mi sono svegliata alle 5 alle 6 alle 7 poi mi sono alzata perché tutto no basta ogni ora però vabbè comunque dire che possiamo salutare ciao ciao